Ha avuto un grande successo di pubblico la serata di ieri per la presentazione del documentario Le trincee del Monte Perlone, il lavoro di recupero delle trincee della Prima Guerra Mondiale, realizzato da Telegarda con la regia di Fabio Galas per la compagnia Schützen-Albrecht von Asburg. Ad introdurre la serata è stato Alberto Sommadossi, a cui sono seguiti gli interventi di contestualizzazione storica di Lodovico Tavernini e Marco Ischia. Tra il folto pubblico anche una forte rappresentanza del Partito Autonomista con l'Onorevole Mauro Ottobre, il Presidente del gruppo consigliare Lorenzo Baratter, il Segretario del Partito Panizza, ma anche le autorità locali non hanno voluto mancare all'appuntamento, con l'Assessore di Arco Miori e il Vice Presidente della Comunità Alto Gardeledro Pederniana. Tra le tematiche emerse durante la conferenza, quella del possibile recupero del vecchio bersaglio di Pravi, con la proposta sorpresa di ottobre di cederlo alla sezione locale degli Schützen. Poi il consigliere provinciale Baratter ha lanciato l'idea della possibile nascita di un nuovo canale televisivo transfrontaliero dedicato al Tirolo. Il filmato di Telegarda, della durata di 30 minuti, è un documentario di taglio giornalistico che spiega i lavori di ripristino delle trincee della Prima Guerra Mondiale sul Monte Perlone, collina di confine tra gli abitanti di Arco, Nago Torbole e Ronzo Chienis, eseguiti in questi ultimi 5 anni dalla compagnia Schützen di Arco. Il documento, che sarà distribuito su DVD dalla compagnia Schützen e sarà trasmesso la prossima settimana dalla nostra emittente, è stato realizzato col patrocinio della comunità di Valle Alto Garda e Ledro.